siamo oggi in compagnia di johnny bravo non si sa chi sia sinceramente faremo oggi una partita su payday tutti quanti insieme ecco qui johnny bravo qui abbiamo no e qui c'è tommaso cossi è stato un po' di giù epic find ehi ragazzi come vedete il trapano sta facendo il suo lavoro oh ma a un certo punto poi iniziano a arrivare a cioè non andarti poi nemmeno a muovere ma dallas Stop shooting civilians, get yourself together Follow me, follow me Come with me Guys, listen, much more hard-headed opponents all the way Stand down, they're rolling in a sniper team Madonna ragazzi, anzi pure Anzi pure, una cosa impressionante sta mission Ok, incredibili No, 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 no. Non vedo più niente Dov'è Mannaccio Sono stato arrestato Cacchio Ho detto io che in questo video si verrà più la performance di Johnny Bravo e non la mia Oh Cristo Hey gang, we can't lift the container while you're inside Put the container with the gold on the truck, use the crane Guys, out of the container, it's not going anywhere with you inside I'm not J Noooooo Ho vediamo se vi riesco aiutato almeno cosi Almeno che vi tolgo Oh ma che? Fa sparato ad ogni Cristo di posto Boh, mi stanno aiutando pur Oh, and we are in meno, si strano Grazie a tutti! 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 Come on! We're nearly done! Sì, la partita è terminata, io vi ringrazio per essere stati qui con noi, un saluto da Johnny Bravo e Tommaso Corsi, Tommaso Corsi e ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao!